Fioriere e panchine, quasi completata l'installazione nel corso stretto che dallo scorso mese di aprile è diventata isola pedonale. Le panchine e le fioriere sono state acquistate dal commissario straordinario Giovanni Arnone ma per installarle è trascorso un po' di tempo poiché c'è stata tutta una querelle se restare con la chiusura permanente oppure variare gli orari. Alla fine hanno vinto i promotori della chiusura del corso stretto ed Alcamo finalmente si può dire che ha un'isola pedonale. Come è noto c'è stata una grande polemica tra gli stessi operatori economici del corso stretto i quali si sono spaccati tra i favorevoli e i contrari. Ma alla luce di quanto sta succedendo e alla luce di quanto è stato deciso dal Consiglio Comunale Alcamo ha finalmente un'isola pedonale della quale si parla da oltre 30 anni. Le operazioni di abbellimento continueranno così come continueranno le iniziative di varie associazioni culturali e istituzioni scolastiche per rendere sempre più bello e gradevole il centro storico di Alcamo ma soprattutto di lavorare nella direzione di far tornare i cittadini a passeggiare nel corso stretto dove erano fuggiti a causa dell'impossibilità di camminare a piedi perché continuamente invase da auto e moto che fra l'altro con i gas di scarico appestano l'aria. Ora c'è da lavorare anche nella direzione di tutelare il centro storico, di varare altre iniziative per quanto riguarda la ZTL, per come ha detto nei giorni scorsi l'associazione Basta Smog, di lavorare soprattutto nelle ore serali e nei fine settimana per evitare che le conseguenze della movita selvaggia si possano abbattere anche sugli sforzi del Comune tendenti a migliorare il centro storico con l'installazione di panchine, con l'installazione di fioriere.